Fa discutere l'ordinanza della Regione che ordina alle farmacie Liguri di mettere a disposizione i dispositivi di protezione individuali, come le mascherine, in particolare quelle in giacenza. Sui social però c'è chi dice che ormai è tutto finito, le scorte non ci sono, che forse bisognava pensarci prima. L'assessore alla salute Sonia Viale, nel ringraziare i farmacisti per il loro senso di responsabilità nell'aver accettato e concordato l'ordinanza, li rassicura sul fatto che non appena i dispositivi arriveranno in numero adeguato, la Regione penserà sicuramente anche a loro. Intanto sta di fatto che attualmente le mascherine mancano agli stessi farmacisti. Noi siamo in prima linea da parecchi giorni. Per quel che riguarda i dispositivi di protezione individuale, siamo veramente in crisi, nel senso che non abbiamo neanche quelli che servono a noi in farmacie. Tanto è vero che noi utilizziamo le mascherine, quelle che usano i chirurghi, quelle a tre veli, che però non offrono un massimo della protezione. E ne abbiamo pochissime anche per noi. Io personalmente ho fatto servizio senza le mascherine perché non le avevo. E quindi ho dovuto fare il servizio senza avere la protezione adeguata.